ciao buongiorno sono franco il tuo video operatore come ti chiami? Emanueel da dove vieni Emanueel? da Milano Milano dove? Milano Baranzate però adesso io in centro e dimmi dove che io conosco Milano piazza Napoli capote vabbè bella piazza Napoli dai bella bella sembri quasi un sceneggiore poi vediamo quello che fai il film lo scenogrono video operatore dai video operatore va bene quindi hanno spiegato quello che andiamo a fare tra poco in aereo più o meno più o meno hai capito tutto vediamo non mi pare il milanese ok dai allora se andiamo in aereo ci divertiamo va bene dai benvenuto al campo volo di raggio Emilia ci vediamo dopo ciao ciao ma non si puoi Ciao Ciao Musica Allora? Come? Morto Bravo Mesa Hu 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 Ta Ha Grazie a tutti.